E invece lo Stato vi è venuto incontro, ma in cui avete detto noi dobbiamo chiudere perché c'è la pandemia, vi è venuto incontro con aiuti, visto che noi ognuno ogni mattina si svegliano e dicono una cosa diversa all'altra? Guarda, sì, tanto. Devo dire che per quanto riguarda il nostro caso in particolare, perché poi qui ce ne sono altri che magari potrebbero lamentarsi un po' di più, io nel mio posso dirti che un aiuto così non me lo sarei aspettato. Ecco, diciamo, tanti soldi dati a fondo perduto e ti posso anche dire quanti perché tanto non mi cambia niente. A me sono arrivati 9.000 euro, scusami, 11.000 euro a fondo perduto, che per quanto riguarda la situazione attuale è arrivati molto velocemente. Oltretutto, diciamo che la prima tranche è arrivata dopo dieci giorni, dall'inizio di questa chiusura totale, e gli altri poi nell'arco del mese successivo. Quindi devo dire che non mi posso lamentare, la cassa integrazione per i ragazzi che lavorano con me è arrivata velocissima. Cosa posso dirti? Sicuramente parlo di un qualcosa di meno disastroso rispetto a quello che è capitato, per esempio, in Italia. Quello sicuramente.